Estra, il maggiore gruppo energetico dell'Italia centrale, chiude il bilancio 2014 con un utile di 10,2 milioni di euro. Estra raddoppia i profitti sul 2013 e incrementa il patrimonio netto fino a 245,2 milioni. Estra vende 883 milioni di metri cubi di gas naturale e ne distribuisce 755,5 attraverso la propria rete di oltre 6.000 chilometri. L'albero di Estra è il concorso Facebook per assegnare i 250 aranci e limoni piantati in Sicilia insieme a Treedom, sui terreni confiscati alla mafia, ora gestiti dalle COP di Libera Terra. Per il terzo anno consecutivo Castiglione Fiorentino ospita la 29esima edizione del premio Fair Play, sostenuto da Estra. Il 1 luglio la cerimonia di consegna.